Benvenuti all'evento People, Profit & Planet, realizzato da FIA, in collaborazione con Hydra, Synthesia e Open Innovation Me. Io sono Andrea Toniolo e modererò l'evento di oggi. Vi mostro adesso i relatori di oggi. Eccoli qui, in splendida forma. Spero che tutti possiate sentirci benissimo. Buongiorno a tutti. Ciao ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Ok. Come il titolo suggerisce, la sostenibilità è un tema che può essere visto in modo ampio e da punti di vista molto diversi. Dalla sostenibilità ambientale a quella umana, di processo e di profondità. Fondamentalmente di tutti questi temi. Parliamo di sostenibilità con queste tre persone che osservano e praticano da punti di vista diversi e allo stesso tempo uniti. Vi presento per primo Francesco Lagoniguro di Hydra. Si occupa di sostenibilità e dell'aspetto strategico e di processo. Francesco, se vuoi salutare. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di essere con noi. Il secondo è Francesco Dall'Oca di Sintesia. Io lo chiamo il Lean Master. Si occupa del miglioramento pratico che la Lean può portare alle persone in produzione. Francesco, se vuoi salutare. Buongiorno a tutti. Grazie Andrea. E ultimo ma non ultimo, tra l'altro il creatore di questo evento, Nicola Bacchetta di Fiam, esperto di ergonomia, sicurezza e automazione e di quanto questo influisce il benessere degli operatori in linea. Tra i tre, oggi è quello che alla fine di questo evento parlerà proprio di prodotto fisico che è in uso agli operatori. Solo per riassumere questo evento, ognuno di queste persone, di questi relatori che oggi parla, diciamo, parla di tre concetti di sostenibilità che si uniscono insieme. Strategia, Francesco, Leonigro, processi e poi la pratica. Quindi passo di nuovo alle nostre fatidiche slide. Io mi presento, tanto per darvi un'idea di... Io come moderatore chi sono? Sono Andrea Toniolo, mi occupo di Open Innovation, fondatore di Open Innovation Me, social media per l'Open Innovation e mi occupo, come potete vedere qui, di rispondere alla domanda come possiamo migliorarlo insieme. Questo è l'aspetto di Open Innovation di cui io mi occupo. Rispetto al marketing, la domanda a cui io rispondo è quindi diversa da vuoi comprare e quindi mi occupo di aiutare le aziende a creare innovazione usando risorse esterne all'azienda. L'Open Innovation, legata a questo evento, è una strategia usata per cambiare campagne di innovazione relative alla sostenibilità e quindi cercare di generare un reale impatto. Passo la parola a Francesco Lagonigro, lo sposto subito sulla sua slide. Francesco, inizia pure. Grazie Andrea, c'è un ritmo serrato, mi sembra di essere veramente ai box della Ferrari, tra le cuffie di Nicola, l'adrenalina che stai trasmettendo tu in questo inizio di webinar. Allora, ancora grazie, è davvero un piacere essere con voi oggi e potervi un po' introdurre il tema della sostenibilità che come ha correttamente e giustamente anticipato Andrea, parte alto con una visione un po' più strategica per poi scendere fino alla singola postazione di lavoro grazie alle spiegazioni e all'intervento che ci darà Nicola. Tra la parte più alta, quella strategica, e la parte veramente più operativa, c'è di mezzo un po' la teoria Lean che ci racconterà Francesco, teoria e strumenti di Lean. Quindi la logica è quella di partire alti per poi zoomare sempre di più arrivando alla singola postazione di lavoro. Chi è IDRA? IDRA è una società benefit che si occupa di portare in azienda di qualunque dimensione, e qui avete alcuni esempi, il tema dello sviluppo sostenibile che è sempre di più una strategia di impresa e in quanto tale va misurata, condivisa e implementata coinvolgendo le persone. Tra qualche istante vi spiegherò bene che cosa vuol dire implementare una strategia di sostenibilità. Siamo un team di 18 professionisti, tra dipendenti e collaboratori, operiamo in tutto il nord-est d'Italia, tutto il nord-est e nord Italia, e appunto le competenze del nostro team sono assolutamente variegate, perché abbiamo ingegneri di processo, abbiamo ingegneri ambientali, abbiamo laureati in economia, piuttosto che laureati in scienze umanistiche, e in area legale. Questi sono tutti argomenti che rispetto ad un approccio di strategia di sostenibilità si intersecano a vario livello. Iniziamo partendo con questa frase che è attribuita al poeta Paul Valéry, il futuro non è più quello di una volta. È una frase che da un po' di tempo mi porto dietro, perché soprattutto in questi ultimi 12-14 mesi realmente rappresenta la situazione nella quale tutti quanti ci troviamo a vivere. In particolare chi era abituato a pianificare il futuro guardando il passato, e chi si occupa di controllo di gestione è bravissimo a fare queste cose, media mobile degli ultimi 5 anni, proiezioni in avanti, si sta trovando sempre di più a dover rivedere queste logiche. Perché? Perché il mondo sta cambiando e i driver che stanno modificando rapidissimamente con una logica esponenziale le nostre abitudini di vita sono ogni giorno sempre più forti e ogni giorno sempre più presenti nella nostra vita appunto. Li vediamo sintetizzati in questa immagine. I driver che stanno influenzando la nostra vita sono fondamentalmente quattro. Le tematiche ambientali che sono su un problema molto serio. considerate che negli ultimi 25 anni sono state distrutte più del 10% delle risorse del pianeta e la sfida è quella entro il 2030 di contenere l'aumento medio della temperatura terrestre a 1.8 gradi in più di quanta ne abbiamo oggi perché questo livello rappresenta proprio quella soglia limite oltre la quale cambierebbe completamente la vita sul pianeta. I ghiacciai si stanno già sciogliendo in generale la biosfera la biosfera avrebbe delle mutazioni veramente incontrollabili per noi. L'altro grande driver che sta modificando le nostre vite è la tecnologia. Io ho due figli uno di 9 anni e uno di 11 se ho bisogno di sapere come funziona il nuovo iPhone devo chiedere a mia figlia di 9 anni perché lei è espertissima. Quindi perché dico questo? Perché la tecnologia soprattutto nelle nuove generazioni sta proprio modificando i meccanismi neuronali neuronali scusate e quindi entra proprio nel DNA delle persone. Io ho 53 anni comincio ad essere assolutamente un dinosauro rispetto a queste cose ma eventualmente lascio ad Andrea questo tipo di argomenti che è il suo pane quotidiano. Altri due temi e altri due grandi driver che stanno influenzando le nostre vite sono il tema demografico relativo alle dinamiche di spostamento delle popolazioni nel mondo sempre più dal sud del mondo e dall'est del mondo si stanno spostando verso il vecchio continente piuttosto che l'età media sta aumentando clamorosamente oltre che il numero di persone proprio la quantità di persone che sta popolando il mondo sta crescendo con una logica esponenziale. Vedete in basso a sinistra la curva e il quarto ultimo ma non ultimo il tema della globalizzazione che sta sostanzialmente creando connessioni a livelli a livelli veramente mondiali. Il tema della globalizzazione lo si spiega con l'effetto butterfly per cui una farfalla sbatte le ali in Cina e in America succede qualcosa di bene o di male non lo so ma è solo per specificare un po' la situazione. Ancora un flash sul problema ambientale questa slide ci fa vedere in che modo le risorse mondiali vengono consumate se le persone di una nazione scusate se tutte le persone del mondo adottassero le abitudini di consumo della nazione che stiamo identificando prendiamo per esempio l'Italia vedete se tutto il mondo vivesse con le abitudini di consumo delle risorse di noi italiani servirebbero 2.7 pianeti guardate cosa succede se fossero invece rispetto agli Stati Uniti guardiamo invece rispetto al Brasile la media mondo è 1.7 cosa vuol dire? vuol dire che più o meno dal mese di agosto in poi stiamo consumando le risorse dell'anno prossimo questo per per capirci quindi a conferma ulteriore che il tema ambientale è un tema sempre più forte sempre più importante rispetto al quale tutti quanti dobbiamo assolutamente interfacciarci la velocità con cui cambiano le situazioni è esponenziale quindi non abbiamo più un secondo tempo non abbiamo più la possibilità di commettere degli errori diventa fondamentale quindi capire qual è la direzione verso la quale rivolgersi oltre che decidere la velocità con cui andare ma mai come in questo periodo la direzione è strategica è fondamentale e allora qual è la direzione che oggi le imprese sono chiamate a prendere quella che va sotto il nome di strategia profit people planet o strategia della triple bottom line che sostanzialmente è una strategia d'impresa sottolineo strategia d'impresa quindi insieme di azioni con un orizzonte di medio e lungo termine ma che hanno una ricaduta in ogni singolo esercizio che hanno l'obiettivo di massimizzare il profitto nel rispetto delle persone e nel rispetto dell'ambiente quindi la sintesi sostanzialmente di quello che va sotto il nome di sviluppo sostenibile è proprio questo creare profitto valorizzando le risorse umane rispettando le risorse ambientali perché dovremmo parlare di sostenibilità ma insomma basta aprire i giornali e ogni giorno troviamo degli articoli che ci stimolano e ci invitano a considerare le tematiche in maniera sempre più importante stanno cambiando le abitudini di consumo dei nostri clienti stanno soprattutto delle nuove generazioni che sono sempre più disposte a pagare un premium price per avere dei prodotti sostenibili che sono sempre più disposte a sacrificare parte della propria retribuzione soprattutto all'inizio per lavorare in aziende che valorizzano i loro talenti e che valorizzano le loro competenze quindi il tema il tema della valorizzazione delle risorse umane rimane sempre al centro della questione poi anche il sistema finanziario si sta spostando BlackRock che è uno tra i più grossi investitori istituzionali al mondo già da due anni ha iniziato a obbligare tutti gli amministratori delegati delle società partecipate a portare piani di sostenibilità nelle proprie strategie aziendali anche il sistema bancario parliamo di quello italiano in generale di quello europeo si sta si sta muovendo in questa direzione la banca intesa già da tempo ha istituito un rating che oltre ai parametri economico finanziari considera anche delle variabili non monetarie non finanziarie una normativa bancaria europea obbliga l'intero sistema bancario dal mese di giugno a integrare indicatori ISG nelle proprie nei propri sistemi di monitoraggio e di scoring quindi la sostenibilità volente o nolente arriva e sta arrivando nelle nostre aziende dico volente perché ci sono molti imprenditori che hanno una visione aperta e che si stanno già ponendo in una logica di implementazione di questi di questi tipi di strategie nolente perché se non lo facciamo noi in autonomia ci costringeranno a farlo i nostri clienti piuttosto che i nostri investitori ecco quindi questa è un po' questa è un po' la logica l'etica dei valori e dei comportamenti è sempre di più il driver che guida e che guida che deve guidare le azioni imprenditoriali la reputation e la reputazione aziendale diventa sempre di più una moneta quindi abbiamo detto aspetto ambientale aspetto economico ed aspetto sociale che si intersecano e che di fatto diventano quella che viene chiamata sostenibilità quali sono come possiamo dire qual è il faro quali sono le linee rispetto alle quali ogni impresa io parlo di impresa ma in realtà l'agenda ONU 2030 fa riferimento all'intero all'intero mondo quindi organizzazioni pubbliche organizzazioni governative piuttosto che imprese private di qualunque dimensione piuttosto che persone fisiche dicevamo quali sono le linee guida sono quelle dettate appunto da questa da questa agenda ognuno di questi 17 bottoni colorati rappresenta una serie di indicatori più di una serie di obiettivi che ognuno di noi può porre può porsi per implementare quella che appunto viene definita una strategia che genera valore economico senza creare ostacoli al soddisfacimento dei bisogni umani nel rispetto degli equilibri ambientali e qui vedete in questa slide proprio raggruppati i 17 obiettivi dell'agenda rispetto alle tre ai tre pilastri di questa definizione quindi creare valore economico e quindi gli obiettivi 1, 8, 9, 10, 11 valorizzando le risorse umane tutto il tema quindi dei diritti della formazione della riduzione delle disuguaglianze e ovviamente ultimo ma non ultimo oserei dire quasi primo il rispetto degli equilibri ecosistemici allora sostanzialmente possiamo dire che chi sviluppa una strategia 3P sostituisce il cliente con il concetto di stakeholder che è un concetto più ampio sostituisce il mercato con il territorio e la società considera l'ambiente una risorsa scarsa considera le persone un fattore abilitante il successo dell'impresa considera la tecnologia un punto di partenza e non un punto di arrivo e più in generale sostituisce il profitto con un concetto più ampio che è quello di valore condiviso andiamo a capire da un punto di vista proprio di strumenti che cosa vuol dire implementare e comunicare una propria strategia di sostenibilità qui siamo un po' rapidamente raccontando i nostri strumenti del mestiere allora una strategia va sicuramente condivisa e raccontata e qui il report di sostenibilità che qualcuno chiama report qualcuno chiama bilancio qualcuno chiama bilancio integrato poi ci sono delle sfaccettature tecniche dietro questi termini che se avete piacere affronteremo in altri momenti questo strumento serve per comunicare a tutti a tutti gli stakeholders evidentemente in funzione di chi è il destinatario si utilizzeranno dei canali di comunicazione diversi che significa nel nostro caso degli standard di redazione del documento diversi l'integrated reporting nasce per comunicare principalmente con le istituzioni finanziarie il GRI e gli SDGs standards invece nascono per comunicare tra diciamo tra clienti e fornitori quindi sono gli standard più più riconosciuti e più diffusi nella comunicazione della sostenibilità ancora tutto il mondo dei sistemi di gestione dei sistemi di certificazione parliamo dei sistemi di gestione ambientale piuttosto che le etichette di prodotto piuttosto che la certificazione di società benefit che è un altro schema di certificazione che soprattutto negli Stati Uniti sta prendendo quota sempre di più e che certifica sostanzialmente l'impegno dell'impresa nei confronti di terzi rispetto appunto all'implementazione di queste di queste pratiche un altro un altro strumento se volete della sostenibilità è tutto il tema dell'economia circolare e quindi quell'insieme di prassi di progettazione di prodotto di identificazione dei materiali di organizzazione del processo produttivo che ha lo scopo di ridurre al più possibile il più possibile la creazione di rifiuti aumentando la vita utile del prodotto e quindi preoccupandosi anche del fine vita di prodotto tutto il tema della digitalizzazione dei processi l'IoT la servitizzazione di prodotto sono tutte prassi tecnologiche che di fatto aiutano l'implementazione di strategie di circular economy e ancora così mi aggancio e passo la staffetta a Francesco Dalloca ancora tutto il tema dell'efficienza dei processi dei processi operativi la lean sempre di più è una strategia che incorpora principi di sostenibilità e quindi parlare di lean e parlare di sostenibilità sostanzialmente significa quasi di parlare della stessa cosa vediamo un attimo a cosa si fa riferimento su questo punto la lean nasce dal concetto di centralità del cliente un'impresa lean nasce per creare valore per il cliente potremmo sostituirlo col concetto di stakeholder l'abbiamo detto in che modo creiamo valore per il cliente utilizzando al massimo la capacità delle persone quindi parte la componente people e col miglioramento continuo e con la lotta agli sprechi miglioramento continuo e la parte profit lotta agli sprechi e trasversale sia sulla parte profit sia sulla parte planet qui vedete io ho un po' riassunto quali sono i principali obiettivi dell'agenda 20-30 e quindi creiamo il collegamento tra sviluppo sostenibile e lean thinking e c'è un altro elemento fondamentale che è il punto 17 cioè creazione di partnership verso gli obiettivi perché la lean se per essere effettivamente efficace e funzionante non può restare dentro l'impresa ma deve scendere in catena di fornitura quindi la creazione di partnership con i propri fornitori per migliorare tutti i flussi produttivi è un altro degli elementi che si dà spesso per scontato quando si parla di una strategia lean ma che invece scontato non è e anzi crea proprio e rafforza e consolida quel collegamento tra strategia lean e strategia di sviluppo sostenibile e poi ancora la valorizzazione e la centralità dell'uomo una strategia lean in azienda non funziona anche gli strumenti di cui ci parlerà Nicola tra poco non vengono utilizzati al meglio spesso vengono come posso dire trascurati se non c'è un engagement delle persone forte per cui la centralità della persona rispetto alla creazione di profitto diventa assolutamente un mantra che l'imprenditore del 2021 del 2022 del 2025 non può non tenere in considerazione per svolgere in maniera efficiente ed efficace la propria l'appropriazione se avete piacere di avere questi materiali mandate pure una mail vedete ve li gireremo con grande piacere io passo la staffetta a Francesco Dalloca che ora scenderà un po' più nel dettaglio sulle tematiche lean e su come alcuni strumenti di lean che sono appunto abbiamo detto coerenti con la logica dello sviluppo sostibile poi si incastrano con gli strumenti che invece fanno parte dell'offerta di valore di Fiam appunto ci saranno raccontati da Nicola Bacchetta grazie grazie Francesco dell'introduzione hai come dire anticipato quello che è l'argomento che sto per per introdurre mi sentite correttamente ti sentiamo benissimo bene bene hai introdotto dei concetti estremamente importanti dal punto di vista di come la lean impatta sulla sostenibilità in particolare che impatto ha sulle persone perché il miglioramento avviene tramite un coinvolgimento totale delle risorse dell'azienda nel cercare di dare maggior valore per i nostri clienti per i nostri stakeholder molte delle persone presenti in questo webinar probabilmente mi conoscono mi occupo con Sintesia di portare miglioramento lean presso le aziende con progetti di trasformazione progetti di miglioramento continuo che avvengono tipicamente con dei team aziendali quindi lavorando con le persone quindi costruendo assieme il cambiamento operiamo in ambito italiano e internazionale in particolare italiano per quanto riguarda la trasformazione dei processi con progetti di consulenza lean in ambito internazionale qui vedete anche qualche nome di aziende importanti tipicamente nordamericane come GE Garner Denver nell'ambito di miglioramento della supply chain quindi il coinvolgimento anche della catena di fornitura nella creazione di maggior valore ricollegandomi a quello che ha detto Francesco sul coinvolgimento delle persone all'interno dell'azienda e su quanto come dire sia importante la PD people vorrei proprio concentrarmi su questa perché che la lean agisca sul profit insomma l'abbiamo capito tutti riduzione dei costi miglioramento di valore per il cliente quindi che sia che agisca sul profit nessuno lo mette in discussione ma come un miglioramento lean impatta sulle risorse interne dell'azienda e provo a fare un attimo un'analisi di dettaglio su come tipicamente un progetto di miglioramento avviene sappiamo tutti che il miglioramento è continuo è a piccoli passi cosa significa che quando io metto in campo diciamo il miglioramento chiamiamolo ennesimo sto facendo la fase di miglioramento quindi modifico porto in alto le mie performance riduco il tempo di setup di una macchina e quindi mi metto in grado di fare lotti più piccoli dopo aver fatto questo miglioramento c'è una fase però di stabilizzazione perché ho creato una novità nel sistema quindi devo abituare le persone a lavorare in questo nuovo modo a questa fase di stabilizzazione segue il consolidamento ed è qui che vado a creare gli standard di lavoro cioè vado a creare quella stabilizzazione dei processi che permetterà poi all'azienda di fare il miglioramento successivo il miglioramento n più uno e questo ciclo è continuo e viene fatto coinvolgendo continuamente persone la domanda che io mi pongo sempre più spesso è ma se questo miglioramento deve essere continuo incessante e avviene in un contesto sempre più complesso dove le esigenze dei clienti continuano a evolversi i cicli di vita dei prodotti sono sempre più brevi ho job rotation del mio personale e l'età media del mio personale è crescente quindi mi trovo a dover coinvolgere anche persone che magari sono prossime alla pensione e magari non hanno tutta quella freschezza e quella flessibilità mi chiedo un miglioramento veramente continuo che impatto ha e quanto è sostenibile dal punto di vista delle risorse all'interno della mia organizzazione quanto riesco a renderlo continuo e come dire costruito all'interno della mia struttura e quindi vorrei ragionare con voi su tre leve operative che noi abbiamo identificato come tre leve per rendere i processi di miglioramento all'interno delle aziende non solo profittevoli ma anche veramente sostenibili nell'impatto che hanno sulle mie persone sui mie team di lavoro e abbiamo identificato il fatto che qualsiasi miglioramento deve di fatto essere almeno tre cose deve essere realmente partecipativo cioè realmente inclusivo deve cioè permettere a tutti di dare un proprio contributo di valore e non deve essere in qualche modo in grado di escludere qualcuno Francesco prima ha fatto l'esempio che se deve capire come funziona un iphone deve chiedere a sua figlia di nove anni guardate che in azienda tanti cambiamenti passano attraverso l'implementazione di tecnologia ma questa può essere una barriera nel coinvolgimento del miglioramento di persone che con la tecnologia non hanno la freschezza che ha un neo assunto di 20 o 25 anni ma non solo è sempre più importante che un qualsiasi tipo di miglioramento arricchisca quello che è il patrimonio di conoscenza di cultura di tutti gli stakeholder quindi deve accrescersi la cultura della persona e anche la conoscenza dell'azienda non può esserci miglioramento che arricchisca solo l'azienda o solo la persona altrimenti non è sostenibile nel lungo periodo e in ultima analisi e qui mi introduco un argomento su cui poi proseguirà meglio Nicola Bacchetta di Fiam con strumenti il miglioramento deve essere anche ergonomico e poi uno dice ma cosa accenda l'ergonomia con il PIPO e con quello che stiamo dicendo vedremo però cosa intendiamo per ergonomia non è solo l'ergonomia fisica ma cominciamo con il primo punto quindi cosa intendiamo quando diciamo che il vero miglioramento deve essere partecipativo o inclusivo sapete che se siete mai stati in una grande azienda che pratica miglioramento lean avrete probabilmente visto che ci sono delle aree della produzione i cosiddetti kaizen corner dove magari se avete fatto una visita il mattino tra le 8 e le 10 avrete visto delle persone riunirsi a orari fissi a fare degli stand up meeting in piedi della durata limitata di 10 o 20 minuti dove si analizzano degli indicatori si discute di come migliorare una fase di processo ecco per rendere veramente partecipativo il miglioramento non posso basarmi sul buonsenso sull'intuito sulla capacità delle persone altrimenti solo i migliori riusciranno a dare un contributo significativo ecco perché la lean mette in campo metodi strutturati di analisi dei problemi come il five wise il metodo dove ognuno può portare un problema si analizza la causa radice mediante i 5 perché quindi mi chiedo perché 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 fino alla causa radice con sistemi di monitoraggio dell'avanzamento dell'azione di miglioramento come il PDCA molto visuali molto semplici dove uso indicatori facili indicatori che possono essere ragionevolmente capiti da chiunque perché è fondamentale che a contribuire al miglioramento siano tutte le risorse dell'azienda dalla prima all'ultima e noi in Italia soprattutto se passiamo alle piccole medie aziende del nord-est siamo molto indietro ancora su questo è difficile vedere un approccio così strutturato perché tipicamente superiamo con l'esperienza superiamo con l'intuito siamo pieni di intuito però l'intuito non è inclusivo perché non include non permette a chi non ne ha sufficienza di partecipare con lo stesso livello di qualità quindi creare KPI semplici visuali è un primo tassello del nostro percorso però vorrei passare al secondo tassello quello che riguarda la crescita della conoscenza la crescita della cultura in azienda un miglioramento sostenibile soltanto se alla fine del processo di miglioramento sia l'azienda che il lavoratore hanno acquisito della conoscenza c'è un imprenditore italiano nel settore della rubinetteria un visionario Ernesto Gualino che dice la cultura non è la ciliegina sulla torta la cultura è la torta oggi le nostre aziende sono aziende che mettono la maggior parte del proprio valore nella conoscenza che hanno è lì il loro asset strategico e quindi come faccio a monitorare quanta conoscenza ho che aree di competenza devo presidiare quanto le mie risorse presidiano questa conoscenza come posso migliorare in altre parole come posso o come devo formalizzare i contenuti della mia conoscenza e che livelli mi attendo di avere come le mie persone presidiano questi livelli e come posso migliorare nel tempo i tre step ecco per fare questo da un punto di vista operativo la linee ci dà uno strumento potentissimo che è la skill matrix probabilmente ne avete già sentito parlare e la e con molti di voi già la conoscono cos'è la skill matrix è nient'altro che un metodo quantitativo e oggettivo per mettere nero su bianco una misurazione di quello che è il livello di competenza della mia azienda quindi cosa incrocia la skill matrix incrocia le aree di competenza che io voglio presidiare e che ritengo importanti per quella fase di processo per quella fetta di creazione di valore che io faccio per i miei clienti e le incrocia con le mie risorse quindi con le persone all'interno dell'azienda per ciascun incrocio tra competenza e risorsa vado a identificare un livello di competenza che tipicamente nelle skill matrix viene semplificato in quattro livelli quindi livello principiante livello autonomo livello esperto livello insegnante e dove vado a identificare con una una mix qual è l'obiettivo desiderato quindi cosa come sono oggi come questa mia risorsa oggi presidia quella competenza ma dove voglio che arrivi e in questa formalizzazione noi abbiamo usato questo colore vado a identificare con un colore diverso in esempio il rosso se esiste un percorso di formazione attivato per far raggiungere quella competenza da parte di quella risorsa quindi in sostanza cos'è la skill matrix è niente meno che uno strumento per rendere misurabile la conoscenza perché se non misuro non posso migliorare questo è un principio lean fondamentale solo ciò che è misurabile è veramente migliorabile io vi ho riportato questa skill matrix diciamo digitalizzata ma tenete presente che solitamente la skill matrix è proprio un tabellone cartaceo dove ci sono le persone addirittura anche le loro le loro foto e le varie aree di competenza che possono essere diverse per area aziendale per funzione per reparto e aggiungo un'ultima nota sul concetto di mappatura delle competenze come forma per monitorare e accrescere le competenze per l'azienda e per il lavoratore quando parliamo di competenze di cultura parliamo di un patrimonio che è della persona a me non piace sinceramente usare la parola risorsa umana non è un errore che questa parola sia qui cancellata la parola risorsa umana sembra che mi dica che io da questa persona devo spremere qualcosa cioè sono comunque persone e se vogliamo creare cultura dobbiamo pensare ai nostri collaboratori innanzitutto come come persone e non come risorse da cui cavare qualcosa ecco quindi abbiamo detto in un percorso per rendere un miglioramento l'inveramente sostenibile ho dei cicli di miglioramento sempre più frequenti e quindi perché siano veramente sostenibili devono essere inclusivi devono essere partecipativi devono usare strumenti quantitativi per rendere il contributo di tutti veramente usufruibile devo misurare la conoscenza che sto creando e aumentarla nel tempo la Scheme Matrix è uno strumento di incremento della conoscenza in ultima analisi devo rendere questi processi di miglioramento sostenibili anche dal punto di vista dell'effort della fatica che metto in campo e quindi introduciamo il concetto di ergonomia che io come dire apro ma poi che Nicola come dire esplorerà meglio anche con delle soluzioni anche pratiche diciamo che l'ergonomia viene solitamente intesa esclusivamente come ergonomia di tipo fisico siamo abituati a pensare proprio all'affaticamento muscolare nel fare attività in posizioni scomode o con strumenti complessi in realtà se noi pensiamo alla complessità dei nostri sistemi produttivi abbiamo altre due forme di ergonomia poco sviluppate o addirittura ignorate che sono l'ergonomia organizzativa e l'ergonomia cognitiva che poi sono di fatto le aree dove la lean ha qualcosa da dire si tratta di quell'area che studia che cerca di migliorare quello che è lo sforzo più psicofisico dell'operatore nel fare il proprio lavoro nel ricevere istruzioni operative nel cercare informazioni nel controllare la qualità del proprio operato nel passare da una lavorazione all'altra e l'ergonomia organizzativa e cognitiva ci dice che una parte importante dello stress deriva da quest'area vi faccio solo un esempio se noi prendiamo questa operatrice che ha i capelli bianchi quindi possiamo dedurre che non sia particolarmente una neo assunta in azienda e magari pensiamo all'ergonomia e ci concentriamo sulla parte classica l'ergonomia fisica avrà una sedia comoda sarà correttamente illuminata la sua postazione però pensiamo che questa signora deve fare continuamente lotti di produzione uno diverso dall'altro quindi dovrà recuperare delle istruzioni operative che le verranno messe a disposizione se ci sono e se sono complete per tutti i prodotti dovrà sovrintendere delle procedure di sicurezza nel fare il proprio lavoro dovrà utilizzare dei materiali che dovrà andare a reperire dovrà controllare che siano quelli giusti e questi materiali cambiano ad ogni lotto produttivo probabilmente dovrà anche verificare la corretta tracciabilità del componente perché sempre più clienti chiedono la tracciabilità del prodotto riceverà istruzioni di lavoro da un proprio supervisore che potrebbero cambiare nell'arco di poche ore farà dei controlli di qualità dovrà rispettare delle procedure di qualità dovrà fare dei versamenti nel gestionale qui non l'ho indicato perché nella foto non riuscivo a inquadrare il pc dove la signora va a versare la bolla di lavoro siamo sicuri che la fonte principale di stress sia l'ergonomia fisica perché io credo che questa persona sia più che altro soggetta a sollecitazioni psicofisiche nel fare il proprio lavoro per tutta la serie di esempi che abbiamo citato ecco che quindi un miglioramento lean per essere veramente sostenibile deve capire anche che dobbiamo rendere dobbiamo essere inclusivi dobbiamo permettere anche ripeto a chi ha delle limitazioni o delle limitazioni diciamo di tipo anagrafico di poter svolgere il proprio lavoro in maniera semplice in maniera ripetibile lavorando anche su quelli che sono gli strumenti al contorno dell'attività di lavoro ad esempio e cito un esempio semplicemente per dire qualcosa di chiaro intuitivo creando standard work procedure operative visuali facilmente reperibili probabilmente l'epoca delle istruzioni operative cartacee in un faldone in un cassetto è definitivamente finita dobbiamo utilizzare strumenti più snelli elettronici dei tablet dei video che sono a disposizione dell'operatore per rendere immediatamente fruibili quelli che sono le procedure operative ridurre quello che è lo stress per la ricerca delle informazioni per la verifica della correttezza del proprio lavoro e anche su questo devo dire abbiamo ancora tanta strada tanta strada da fare chiudo con un'ultima come dire osservazione che è anche un po' una provocazione fino adesso abbiamo fatto esempi di partecipazione di ergonomia di stress legati ad attività e ai lavori tipicamente fisici che sono quelli a cui è più facile pensare quando si parla di questi temi però se vi chiedo la maggior parte di voi credo che siano colletti bianchi per chi lavora in ufficio quanto può essere disergonomico un lavoro intellettuale al termine di questo webinar fra un 20-25 minuti quante email avrete ricevuto che dovrete leggere e processare e se dovete fare una verifica svolgere un task quante applicazioni diverse aprite sul vostro pc ricevete un email dovete andare a contare nel gestionale poi aprite un file excel con un report dovete aprire un altro file excel che invierete a un collega nel frattempo che avete fatto questa attività avete ricevuto tre telefonate due chiamate un messaggio whatsapp quante volte dobbiamo risettarci nel nostro lavoro in maniera in maniera continua quanto è in realtà disergonomico anche il lavoro intellettuale quanto inefficiente può essere il lavoro intellettuale ecco perché la lean comincia sempre di più ad analizzare gli sprechi le attività non valore aggiunto fonti di nuova efficienza anche nei flussi di tipo indiretto e non soltanto nei flussi operativi di tipo diretto ecco io ho voluto fare una panoramica a volo alto ho introdotto i concetti anche di appunto ergonomia fisica cognitiva organizzativa e quindi lancio la palla a Nicola che può portare avanti questo tema certo assolutamente ricevo e proseguo anch'io ha introdotto una serie di argomenti veramente veramente interessanti mi muovo rapidamente sulle slide senza dire chi sono io chi sia Fiam scusate perché poi magari ci sarà occasione di approfondirlo quando si riceveranno le slide vado subito al punto che ci interessa e in realtà mi ero proposto di spiegare ma cosa c'entra uno strumento di lavoro con un tema così se vogliamo dire alto che è quello People Profit Planet che Francesco i due Francesco hanno toccato e spiegato fino ad adesso in realtà mi ha anticipato Francesco dall'Oca perché il tema fondamentale è proprio quello dell'ergonomia e secondo secondo me crea un collegamento molto molto forte con appunto People Profit Planet perché se io intendo l'ergonomia in un senso più ampio in un senso lato e cioè come un insieme di tecniche di strumenti che ci servono per misurare scusatemi per migliorare il benessere delle persone come diceva Francesco non delle risorse ma delle persone beh vado esattamente a valorizzare le persone vado a creare efficienza e quindi se creo efficienza riduco gli sprechi aumento il profitto e in ultima analisi come ci spiegava Francesco Lagonigro all'inizio vado ad avere un effetto anche sull'ambiente in senso chiaramente molto ampio ma che qui abbiamo sintetizzato in Planet quindi l'aspetto trasversale di riduzione degli sprechi per noi è centrale sull'ergonomia che va affrontata in diverse diciamo così configurazioni come accennava Francesco Dalloca la prima la più se vogliamo banale è quella dell'ergonomia fisica noi come Fian ce ne siamo diciamo così sempre occupati anche in tempi non sospetti una precisazione cosa vuol dire poi ergonomia perché la definizione che noi abbiamo sempre utilizzato è quella di una scienza multidisciplinare perché riguarda temi di biomeccanica di ingegneria di design industriale e non solo fisiologia psicologia quindi è veramente una materia ampia in ogni caso è una materia che si occupa di studiare sostanzialmente le funzionalità le funzioni anzi le interazioni tra tre elementi fondamentali che sono quelli di cui in sintesi abbiamo parlato fino ad oggi fino ad ora scusate l'uomo le macchine che l'uomo deve utilizzare e l'ambiente in cui uomo e macchina si trovano ad operare e quindi è veramente molto molto centrale perché poi ci dobbiamo occupare di aspetti ergonomici fondamentalmente perché ce lo dice la legge ma direi che questo è un aspetto che potremmo dire o dare anzi per acquisito rispettare delle normative sicuramente perché dobbiamo tutelare la salute degli operatori che devono interagire lo dico ancora una volta con delle macchine sempre più e devono lavorare in un ambiente di lavoro devo tutelare o scusatemi devo occuparmi di tenere questi ambienti di lavoro in ordine puliti standardizzati e qui viene facile il collegamento con l'ultima parte dell'intervento di Francesco e tutto questo teso a un aumento generale di efficienza di produttività e di qualità il primo aspetto ripeto è quello dell'ergonomia fisica ma l'ergonomia fisica in realtà è anche di semplice attuazione nel senso che è se posso dire così sufficiente diciamo anzi è condizione necessaria ma non sufficiente andare a verificare quello che la legge ci dice l'ultimo decreto è ancora del 2008 quindi qualche tempo è passato in realtà poi ha subito delle diverse evoluzioni ma comunque definisce quello che le aziende devono fare e il datore di lavoro deve fare per effettuare una valutazione del rischio per sicurezza e salute dei lavoratori e poi definire una volta che è stato valutato quel rischio cosa posso fare per andare a migliorarlo in più mi da delle indicazioni su degli obblighi specifici che sono legati al rischio di prodotto e al rischio derivante dall'utilizzo di quel prodotto questo significa che ci sono dei prodotti scusatemi dei rischi che sono connaturati ai prodotti che vengono utilizzati e quindi se un prodotto molto banalmente ha un certo tipo di pressione sonora piuttosto che produce un certo livello di vibrazione questi sono dei prodotti scusatemi dei rischi che non sono eliminabili ma poi li posso gestire attraverso una corretta diciamo così gestione dei rischi che sono derivati dall'utilizzo appunto di quei prodotti quindi in sintesi per quel che riguarda l'ergonomia fisica gli aspetti che sono legati in generale agli strumenti di lavoro poi è evidente che la nostra specializzazione ci porta a tenere più in considerazione gli avvitatori che vengono utilizzati sulla linea di montaggio e di assemblaggio all'interno delle industrie manifatturiere ma sostanzialmente vado a ripetermi perché si parla di dati che vengono forniti dai costruttori quindi devo andare ad occuparmi delle vibrazioni del rumore ma dal nostro punto di vista molto più diciamo così interessante ed è soprattutto per il legame con il tema di oggi andare a occuparsi dell'affaticamento degli operatori e di tutti quei fattori ambientali che girano attorno a queste situazioni di lavoro quando parlo di affaticamento l'esempio è proprio diciamo così tipico delle fasi di lavoro intensivo dove devo andare a verificare la spinta che l'operatore deve compiere per utilizzare gli strumenti quindi tutto lo sforzo che deve mettere in campo piuttosto che come gli strumenti di lavoro sono bilanciati sono diciamo così in senso generale se sono o no utilizzati correttamente ma io su questi aspetti andrei via veloce perché tra l'altro sono anche stati da noi diciamo così valutati all'interno di una sorta di quaderno di pubblicazione che va diciamo così a dare dei tips dei suggerimenti pratici per andare ad esempio a scegliere correttamente un avvitatore ergonomico comunque quali sono gli aspetti che vanno tenuti in debita a considerazione quando devo scegliere uno strumento di lavoro che sia economico ma poi una volta che ho scelto diciamo così quello strumento di lavoro e diciamo che dopo il scontato che sia il più ergonomico possibile mi inserisco in un ambiente che è molto più ampio e quindi non posso far finta di aver fatto la scelta corretta solo sullo strumento ma devo tenere in considerazione molti più aspetti e quindi riprendo un po' i temi di Francesco Dalloca devo parlare non solo di ergonomia fisica ma occuparmi di ergonomia organizzativa e di ergonomia cognitiva perché ci sono dei fattori di rischio che sono ben diversi e ben più ampi di quelli legati alle banali vibrazioni o ai livelli di pressione sonora di uno strumento di lavoro quindi devo andare a verificare i ritmi di lavoro all'interno di quei ritmi o cicli di lavoro quante azioni ripetitive vengono fatte quali orari quell'attività che l'operatore fa per diciamo sette ore al giorno quanto monotona è quanta fatica deve impiegare per portare avanti quell'attività e poi all'interno ancora una volta di quale diciamo così microclima sta lavorando tutto questo quindi rende l'aspetto ergonomia il tema dell'ergonomia sicuramente più complesso ma anche molto più interessante qui ho riportato delle fotografie delle immagini non sono tanto diverse da quella che ha fatto vedere Francesco dove si vedeva una persona su un banco di lavoro qui parliamo di catene di assemblaggio quindi la complessità probabilmente è anche in aumento ma sostanzialmente in sintesi quando parliamo di ergonomia organizzativa andiamo a occuparci sicuramente del miglioramento del benessere del singolo operatore o di gruppi di lavoro ma soprattutto già qui tra l'altro il testo unico quello del 2008 nelle sue evoluzioni va proprio a specificare che devono essere messe in campo delle azioni che vadano non solo a tutelare la fisicità ma anche la salute del lavoratore nei confronti di un lavoro monotono e ripetitivo e quindi devo andare diciamo così a occuparmi della tutela di tutte le caratteristiche psicofisiologiche o psicofisiche dell'individuo o come si diceva adesso di un gruppo di lavoro di un team di lavoro perché? perché devo occuparmi del benessere del benessere della persona che poi di fatto è inserita in una comunità più ampia che se l'allarghiamo ancora è la società ma se rimaniamo nell'ambiente di una fabbrica è già una comunità evidentemente ben strutturata e ben organizzata e quindi tutti questi temi che abbiamo cercato di riassumere qui si relazionano con quelli che toccavo prima ma sono in senso molto ampio legati proprio allo stato psicofisico dei lavoratori e che secondo me mi viene veramente naturale quel collegamento con quell'immagine del materiale del slide di presentazione di Francesco dove tutti questi punti secondo me erano toccati in maniera trasversale e ulteriore approfondimento è quello dell'ergonomia cognitiva ed è legato appunto a tutti quei processi che sono tipici dell'essere umano e che in qualche modo sono quelli che vanno diciamo così più a mio avviso posti sotto attenzione in senso positivo e tutelati e quindi come gli operatori sono attenti che percezioni ricevono e anche di fatto poi quali emozioni sviluppano perché come diceva Francesco non sono risorse umane sono in ultima analisi persone e sono sempre più diciamo così frastornate da una serie di input di ogni tipo e che vedremo magari più nel dettaglio più avanti scusate mi sono distratto leggendo l'intervento sulla chat ma magari lo riprendiamo più avanti lo riprendiamo dopo quando hai finito Sì Nicola Certo qui vedete anche qui è una postazione di lavoro qui in ogni caso è più semplice rispetto a quella che vedevamo prima ma è evidente come sia stata ben curata sia l'elemento fisico vedete quanta cura sull'illuminazione ma c'è una pulizia sul banco qui siamo ancora in una fase di prima installazione quindi mancano come lo vedete le istruzioni operative verrà sicuramente sarà stato poi implementato ma si denota comunque una pulizia di fondo che è quella che ci interessa con la quale ci interessa partire per poi andare a rendere più completa la situazione di lavoro con cura e qui ci ricolleghiamo ai temi delle interfacce possono essere elettroniche e c'è mai ma anche molto più semplici su istruzioni scritte e il coinvolgimento dei sistemi informativi e quindi ritornando al riassunto di prima ergonomia fisica ergonomia organizzativa e cognitiva quindi se ci spostiamo sul tema dell'organizzativa devo per esempio pensare di utilizzare dei metodi di lavoro pocaioche o degli strumenti di lavoro pocaioche che sintetizzando molto ci consentono di far giusto al primo colpo oppure di fare in modo che sia rilevato sia reso evidente quando interviene un errore mi possono mi posso aiutare con metodi diversi e nuovi e più attuali come diceva Francesco per ottenere delle istruzioni operative posso utilizzare se vado nell'ambito dell'ergonomia cognitiva degli strumenti di lavoro che mi eliminano l'affaticamento mentale gli operatori sono diciamo così devono essere sgravati dalle necessità di controllare che la macchina stia facendo effettivamente l'operazione corretta devono concentrarsi sulle parti di processo sulle quali possono avere un reale valore aggiunto sia perché ce l'hanno sia perché viene enfatizzato il loro contributo l'ultimo punto è quello di in un contesto di mercato sempre più burrascoso lo uso questo termine per essere sintetico devo avere strumenti che possano qui manca di effettuare modifiche quindi mancava una parola sulla presentazione ma sostanzialmente che siano il più possibile flessibili e quindi cosa devo fare cosa devo anzi ottenere uno stop alla necessità di andare a reperire le informazioni uno stop a creare problemi nel momento in cui ho cambi turno quindi cambiano le persone non posso più permettermi di avere dei blocchi di produzione perché ho dei difetti che trovo lungo la catena di produzione e non posso più anche questo se ne parlava prima le barriere tecnologiche non posso avere degli strumenti di lavoro che siano difficili o da programmare o da autorizzare e ancora una volta torniamo al tema scusatemi non al tema all'equazione ottengo una maggiore ergonomia e quindi ottengo una maggiore efficienza per fare giusto per far vedere qualche esempio citavo prima perché mi collego in maniera molto diretta ai temi della lean la lean suggerisce di utilizzare dei sistemi pocaiocche in realtà il sistema pocaiocche dovrebbe evitare l'errore diciamo così lo utilizziamo come in un senso più trasversale nel momento in cui dico ho uno strumento di lavoro pocaiocche che mi consenta di intercettare un difetto prima di passare alle fasi successive e quindi immediatamente mi posso accorgere che c'è uno scarto lo posso anche magari riparare o decidere di fare delle azioni uno strumento pocaiocche è anche la pompa di benzina che tutti quanti utilizziamo quella del gasolio se non sbaglio è più larga e quindi non entra nel serbatoio della benzina e ci impedisce di fatto di mettere il gasolio all'interno del serbatoio della benzina scusate qui ero avevo inserito un esempio molto molto pratico qui esistono dei sistemi quindi che mi consentono di diciamo così di fare l'operazione corretta ma al di là dell'aspetto fisico di fare un'operazione corretta faccio in modo che l'operatore non debba preoccuparsi ad esempio in questo caso di seguire la corretta sequenza il sistema che gli diciamo così impone quella sequenza quindi l'operatore può concentrarsi su quelle operazioni sulle quali lui effettivamente possa metterci del suo e quindi dare quel valore aggiunto che diciamo così in un certo senso merita di dare poi c'è il tema dell'automazione che è un tema molto attuale e che non è solo legato a oggi produco con un certo tempo ciclo e domani devo produrre con un tempo ciclo inferiore perché ho adottato un monumento e l'ho messo lì e fa le operazioni in maniera più rapida gli esperti di Lincio che apprezzano la parola monumento ma perché in realtà l'automazione mi serve anche in questo caso per sgravare gli operatori da operazioni ripetitive l'utilizzo dei cobot che si fa in maniera sempre più importante è proprio perché il cobot che debba lavorare 8 minuti 8 ore non risente di fatica non si annoia non soffre perché ha diciamo così delle operazioni monotone ecco tutte quelle operazioni monotone e purtroppo lo devo ammettere l'avvitatura fa parte di questa categoria possono essere diciamo così delegate a dei compagni di lavoro che al giorno d'oggi se ne possono occupare senza diciamo così risentirne da un punto di vista psicofisico e quindi queste operazioni che possono essere demandate a questi sistemi portano degli evidenti vantaggi certamente lo si diceva prima in riduzione di tempo ciclo ma anche con un minore affaticamento dell'operatore con qua si vede un'immagine molto chiara in realtà è l'evoluzione di quella che vediamo prima dove si vede una postazione di lavoro sicuramente confusionaria ed ergonomicamente poco agevole prima e molto più pulita ed ergonomicamente migliore in una fase successiva l'ultimo punto è quello della flessibilità e qui veniamo al periodo diciamo così storico che stiamo vivendo che probabilmente ha esasperato un mercato che comunque già lavora e ci costringe a lavorare costringe noi e tutte le aziende manufatturiere con dei volumi sempre più bassi quindi produciamo meno questo forse è anche un bene per il tema del planet di cui si parlava prima quindi meno sfruttamento di risorse una varietà altissima quindi ognuno vuole il proprio prodotto come lo ha scelto quindi lo voglio del colore mio con la lunghezza che voglio io e quindi elevata personalizzazione e questo significa alta varietà di configurazione per chi deve produrre e una variabilità della domanda altissima per cui oggi produco uno domani tre dopo domani due poi dieci e tutto diventa diventa più diciamo così difficilmente imprevedibile come era la frase iniziale sul futuro giusto Francesco e quindi cosa ci servono strumenti di lavoro di lavoro smart che siano autoconfiguranti e torniamo al tema di prima la barriera tecnologica non posso più avere una barriera tecnologica rispetto a operatori che possono essere diversi la signora con i capelli bianchi o il ragazzo di 25 anni quindi il sistema deve essere semplice nella programmazione e anche nell'utilizzo e poi deve essere diciamo così pronto per sistemi qui ho messo un'immagine di un sistema che ho conosciuto giusto pochi giorni fa in cui ho l'operatore che dialoga o che interagisce con un braccio robotizzato e un sistema che proietta sul banco di lavoro non solo le istruzioni ma anche illumina la cassettina dove deve essere preso il pezzo e dà un feedback se è stato fatto correttamente eccetera tutti ausili in ultima analisi ergonomici e l'ultima frontiera di sistemi in questo caso ovviamente di avvitatura ma gioco in casa è che siano autoconfiguranti e quindi quella barriera tecnologica di cui si parlava prima la posso eliminare nel senso che è in qualche modo la fabbrica o il sistema fabbrica che dice al sistema di avvitatura adesso tu devi avvitare sul pezzo A tre viti a una determinata coppia subito dopo arriva il pezzo B che non ha più tre viti né a cinque e magari ha una coppia diversa e quindi non è l'operatore che deve preoccuparsi o di richiamare un programma una ricetta o di settare il sistema ma è il MES o qualsiasi sistema diciamo così di gestione della fabbrica che autoconfigura il sistema a seconda del prodotto che deve essere assemblato quindi cambierò il numero di viti la coppia l'angolo il tempo tutti quei parametri che si vuole per poi renderli tra l'altro toccando un altro un altro punto tracciabili e quindi non è più l'operatore che deve preoccuparsi di dire sì l'ho fatto faccio un BIP e dico fase chiusa correttamente o non correttamente ma il sistema rende disponibili e tracciabili quelle informazioni sul ciclo di lavoro sui controlli di qualità eccetera eccetera io con questa ho finito sono stato nei tempi sei stato qua hai un minuto due minuti e venticuatro secondi no scherzo allora beh innanzitutto mettiamo tutti in galleria e nel frattempo se vediamo se arrivano domande io invito tutte le persone che partecipano a inviare domande perché quando mai avete tre realtà con un know-how pazzesco così secondo me anzi facciamo quattro e allora se finché non arrivano domande ne farò io ne faccio io un paio che mi sono venute durante questo intervento Andrea aspetta scusami posso solo intervenire no c'era la quella il messaggio in chat non so se in realtà mi ricollego mi ricollego ah ok scusa non hai una domanda ma mi ricollego in questo modo proprio Giorgio ha scritto questa frase che secondo me è interessante perché la sostenibilità è fondamentalmente condivisione in senso che noi ognuno di noi fa qualcosa che è riferimento alla sostenibilità che poi è condiviso aspetta che guardo la telecamera perché ho tutti i pannelli domande cose li guardo e ognuno fa qualcosa che poi viene trasmesso qualcun altro quindi tutti Francesco L Francesco D Nicola voi fate cose che poi devono essere condivise con gli altri non è solo una cosa io faccio e poi gli altri eseguiranno ma è un lavoro di concertazione quindi quello che ha scritto Giorgio è interessante perché le aziende del futuro cioè aziende del presente i brand che vogliono svilupparsi nell'ambito di valore di sostenibilità è un valore di condivisione infatti io occupandomi di open innovation sempre guardo le cose in questo senso di apertura allora io vi faccio inizio a farvi delle domande la prima a Francesco Lugonigro è quanto è cambiato negli ultimi anni secondo te la richiesta di report di sostenibilità cioè all'atto pratico di avere questo diciamo riassunto della sostenibilità aziendale è cambiato qualcosa quanto cosa sta succedendo allora sta sta succedendo sta succedendo questo che come ho detto prima le abitudini dei clienti stanno cambiando ad una velocità pazzesca quello che valeva tre mesi fa comincia a non valere oggi su determinate situazioni e c'è sicuramente una crescente attenzione anche spinta dai mass media anche spinta da tutte queste questa grande attesa di soldi che devono arrivare dall'Europa che ci hanno che ci hanno nutrito i telegiornali in alternativa ai dati del covid in questi ultimi mesi e quindi adesso si sta cominciando come sempre quando l'imprenditore non particolarmente lungimirante sente che stanno arrivando contributi e supporti si stanno iniziando ad aumentare anche gli interessamenti verso tutti questi argomenti il tema del report di sostenibilità è uno delle richieste che ci viene sempre di più sottoposta diciamo che più in generale ci viene chiesto di iniziare a comunicare in maniera strutturata cioè ci viene chiesto di aiutare le imprese ad aiutarle accompagnarle nella costruzione di percorsi di comunicazione sempre più strutturati e noi da questo punto di vista abbiamo un metodo perché il rischio di greenwashing che è il fenomeno di darsi la pitturata di verde quindi senza cambiare diamo soltanto aspetto di comunicazione in questi casi è molto alto ok ecco perché diciamo che tendiamo ad accompagnare le imprese ad avere ad avere un sistema di comunicazione strutturato nel senso va benissimo il post su link va benissimo il sito ma quelli sono tutti sono tutti sistemi di comunicazione che io chiamo autoreferenziali nel momento in cui invece quello che stai realmente facendo perché il presupposto è raccontare quello che si fa non raccontare quello che si vorrebbe fare o che si farà un domani ok quindi attenzione quando guardate un report ai verbi al tempo al tempo del verbo ok il tempo del verbo dovrebbe essere il passato nel report di sostenibilità mentre in un piano in un business plan ci sta che ci sia il futuro ok quindi molto spesso viene chiamato bilancio un'intenzione una dichiarazione di intenti e non una rendicontazione di attività fatte ma detto questo la cosa importante è appunto per chi vuole avvicinarsi al report utilizzare degli standard io prima ho citato velocemente i GRI piuttosto che gli SDGs perché lo standard ti siccome stiamo parlando scusate di azioni volontarie ok io prima sentivo Nicola parlare di una legge che obbliga all'ergonomia ok la sostenibilità non è obbligatoria per legge sta diventando un'opportunità strategica ma non è obbligatoria per legge quindi quando entriamo nell'ambito del non obbligatorio appunto il rischio dell'autoreferenza è molto alto e quindi qualunque sia la soluzione che si decide di adottare facciamola rispetto degli standard che ci danno la possibilità di certificare effettivamente quello che stiamo facendo quindi alla domanda precisa quanto stanno aumentando le richieste di report stanno aumentando così come sta aumentando in generale una richiesta di accompagnamento su tematiche di sostenibilità stanno aumentando le richieste di accompagnamento a trasformazioni in società benefit con tanto di certificazione B Corp noi stiamo per ottenerla nel senso che abbiamo già gli scoring sufficienti per poterla avere stanno aumentando le richieste di supporto nel calcolo degli impatti ambientali e di implementazione di percorsi di efficientamento dei processi guidati proprio dalle 3P quindi ci stanno aumentando un po' tutti gli strumenti diciamo della sostenibilità non solamente quello più comunicativo va bene sappiamo che poi tra l'altro anche una richiesta come hai detto tu prima anche dei clienti che chiedono quindi è una sorta di loop che sta crescendo passo alla domanda che ha scritto Luigi sulla Skillmatrix se può essere applicata anche nelle soft skills oltre nelle hard skills vai te Francesco la risposta è chiaramente sì l'esempio che vi ho riportato prima peraltro è un esempio con nomi modificati della nostra Skillmatrix dove vengono come dire mappate sia hard skills quindi chiamiamole competenze che sono comunque competenze di tipo intellettuale perché riguardano competenze su come fare determinate le vita lean ma in realtà noi mappiamo allo stesso interno anche le soft skills possono essere il public speaking il team working la capacità di conduzione progetto la capacità di stesura di un contratto quindi assolutamente hard e soft skills possono essere entrambe anzi devono essere entrambe mappate e attenzione che molto spesso gli strumenti lean hanno questa chiave sono interessanti non solo per l'output che mi danno ma sono interessanti anche perché nel farli mi obbligano ad un processo dove domando a me stesso ma quali sono le soft skills che a me interessa presidiare quindi fare lo strumento è un modo per farsi delle domande e per rendersi conto che a volte non abbiamo neanche noi le idee chiare e in tutta trasparenza è stato anche un miglioramento per noi fare la skill matrix di sintesi è stato un modo anche per domandarci ma questa competenza forse è importante forse è meglio che io la metta per esplicito da qualche parte ok e direi che questa è una domanda che può essere fatta un po' in realtà a tutti e due Francesco e Nicola diciamo Giada chiede in riferimento al concetto di ergonomia cognitiva come si può far fronte al rischio che l'operatore si senta messo da parte o privato della varietà delle mansioni che ha sempre eseguito io la farei a tutti e due sia a te Francesco D vai e poi anche a Nicola Barchetta allora attenzione è che noi non andiamo a mettere in piedi degli strumenti quali possono essere ad esempio istruzioni operative digitalizzate o poi Nicola parlerà di avvitatori pocaiocchi che contano le viti perché vogliamo come dire demansionare l'operatore in realtà vogliamo migliorare quel livello di base perché vogliamo fare qualcosa in più è un po' come dire quando è stata messa l'ABS sui veicoli o il controllo elettronico di stabilità non l'abbiamo fatto per avere persone che non sappiano più guidare ma vogliamo ridurre gli incidenti vogliamo avere una guida molto più sicura cioè in realtà vogliamo che le persone possano concentrarsi su altre cose a maggior valore quindi è un innalzamento continuo del bisogno di competenza che chiediamo alle nostre persone ok vai Nicola sì sì ma posso solo confermare quello che è stato appena detto se un piano cottura è stato avvitato con nove viti o vi deve venire avvitato con nove viti sì l'attenzione che l'operatore può mettere su quella operazione direi che non è a valore aggiunto anzi ha magari 30 secondi di tempo per farlo se deve impiegare anche non lo so come si possa misurare l'attenzione ma una parte della sua attenzione per essere sicuro che ne abbia avvitate nove e non otto o sette non è un'operazione a valore aggiunto non credo che sia classificabile come una mansione no e quindi se io ho uno strumento di lavoro che fa al posto suo con l'operazione banale sarà valorizzato mi viene in mente il caso di un cliente che aveva un piano in vetro l'operatore dovrà controllare per esempio che il vetro sia perfettamente in linea con gli standard qualitativi è quello è un valore aggiunto che può mettere l'operatore umano una bellissima domanda anche perché io ce l'avevo uguale quindi di Luigi che è in che modo un avventatore FIOM contribuisce alla sostenibilità alla parte planet di questo evento è una domanda per un milione di dollari e abbiamo un'ora e mezza ancora io ho la risposta allora no devo lasciare Francesco no no ci mancherebbe sei tu il padrone di casa poi magari integra no io vedo l'ho anche in parte detto durante la presentazione il contributo che i sistemi gli strumenti di lavoro e quindi tra questi anche gli avvitatori possono dare e devono dare quello di ridurre gli sprechi al di là voglio dire che l'avvitatore sia stato fatto scusatemi la premessa da bravo produttore di avvitatori è che è stato fatto con plastiche sostenibili che è stato curato nella progettazione l'LCA quindi tutto il ciclo di vita del prodotto e via dicendo e questo sbagliavo nel darlo per scontato ma diciamo così se guardo al lato pratico quindi all'utilizzo dello strumento di lavoro devo fare in modo che questi strumenti riducano sprechi e quindi evitino gli errori o facciano in modo come si diceva prima di segnalare e quindi di poter riparare un pezzo scarto le viti hanno un vantaggio e la vitatura scusate ha un vantaggio intrinseco che è un processo reversibile se io faccio un incollaggio una rivettatura o un altro una saldatura non è così semplice effettuare la riparazione e questo è un tema molto importante poi per il riciclo ci sono molte direttive in questo senso da parte dell'Unione Europea Francesco se posso aggiungere soltanto un dettaglio quindi mi trovo assolutamente d'accordo con con quanto dice Nicola nel senso che diciamo un abitatore FIA ma più in generale un utensile di lavoro è voluto ha un doppio può portare vantaggio al brand di una doppia misura in maniera diretta se è stato progettato con delle logiche di ecosostenibilità e quindi di eco design per cui nell'utilizzo quindi andiamo a lavorare sulla componentistica che viene utilizzata nella sua nella sua progettazione e realizzazione e in maniera se volete indiretta proprio sia nella riduzione degli scarti ma c'è un indicatore che sempre di più è oggetto di analisi che è il rapporto tra energia consumata piuttosto che emissioni in atmosfera realizzate rispetto all'output di produzione è un indicatore di produttività addirittura qui mi riaggancio un po' alle tematiche lean anche l'OE potrebbe essere modificato potrebbe essere integrato quindi da 4 da 3 a 4 fattori introducendo un indicatore di efficienza ambientale e cioè a parità di emissioni in atmosfera più aumenta la produttività più l'impatto ambientale complessivo del sistema si riduce ok quindi nel momento in cui io ho un sistema in questo caso di abitatura che adotta la logica di Pocayoke che quindi riduce i tempi riduce gli scarti per cui il lead time complessivo di attraversamento del mio prodotto ne beneficia io di fatto sto a parità di emissioni inquinando di meno perché aumento l'output complessivo della produzione assolutamente sì io non ho citato altri temi che possono essere scusatemi anche quello diciamo così dell'efficienza energetica voglio dire per esempio i classici avvitatori pneumatici devono passare dall'energia elettrica che viene trasformata in aria compressa quindi ci sono anche in quel senso evoluzioni per cui se io utilizzo avvitatori elettrici ho delle trasformazioni inferiori dei costi inferiori e ci ricolleghiamo questi temi di maggiore efficienza maggiore sostenibilità io ho una domanda per Francesco Dalloca a meno che non vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto Nicola ok bene allora io faccio tutte le domande da un milione di dollari quindi preparati allora qual è secondo te quello dove sei trovato maggiormente il problema più noto che hai nella partecipazione nelle aziende e come lo risolvi il problema più grande è il coraggio di delegare il coraggio da parte dell'imprenditore o del responsabile di far prendere delle decisioni a qualcun altro è la chiave più è lo scoglio maggiore perché in ultima analisi c'è sempre la sensazione che dal punto di vista pratico potrebbe anche essere vera che se fossi io a fare quella scelta la farei più giusta perché l'imprenditore ha una visione più ampia conosce la storia l'ha creata lui ha quella sensazione con cui fa le cose giuste e distinto ma non può fare tutto deve cominciare a fidarsi deve far sbagliare deve far crescere le persone anche nelle scelte del miglioramento se il miglioramento progredisce a step a gradini la scala del miglioramento sta andando verso una direzione che non mi sembra quella giusta però devo anche a un certo punto lasciar fare le persone altrimenti rimango lì fantastico grazie mille come dice il nuovo guru come dice il nuovo guru Zlatan Ibrahimovic il fallimento non è l'opposto del successo ma è una parte del successo certo tante no è così beh io una cosa mi volevo dire una cosa Mauro ha scritto una frase e la rimando a te Francesco Logonigro dice la sostenibilità sarà il mantra del futuro beh è anche il mantra già del presente perché è anche del passato perché i report li facciamo sul passato e non sul futuro però ha detto una cosa interessante che è un tema strategico che sta entrando nei piani di gestione dei rischi il risk management vuoi dire qualcosa sul risk management perché è un bellissimo spunto certo assolutamente diciamo che in un quarto d'ora di tempo questo era uno dei tempi che non ho avuto modo di evidenziare ma è un'affermazione assolutamente corretta nel senso che un'azienda sostenibile cioè un'azienda che riesce ad applicare in maniera integrata tutti i principi della sostenibilità è un'impresa che in particolare perché attuando quello che viene chiamato stakeholder engagement cioè sistema di interfacciamento tra azienda e stakeholder quindi apertura alle esigenze degli stakeholder di fatto gestisce i rischi in maniera diversa in maniera più ponderata in maniera misurata e non stiamo parlando solo di rischi che sono regolamentati da normative ok stiamo parlando di rischi più ampi ok quindi rischio strategico rischio mercato ecco non è un caso proprio per citare le situazioni che si sono verificate proprio in questi mesi non è un caso se i titoli di borsa relativi ad aziende che hanno già dei piani di sostenibilità conclamati dichiarati e avviati hanno reagito e quindi recuperando sostanzialmente le valorizzazioni ante covid ante covid in tempi molto più rapidi di quanto invece stiano facendo aziende che non hanno ancora avviato percorsi di questo tipo quindi assolutamente d'accordo con quello che scrive Mauro un processo di implementazione di sviluppo sostenibile è di fatto un processo di risk management fantastico fantastico beh abbiamo anche i fan nella chat scherzo Luca ha scritto una cosa anche qui interessante e dice penso che un operatore che ha la possibilità di utilizzare un strumento di lavoro nel nostro caso un abitatore FIAM tecnologico ergonomico e facile da utilizzare che evita gli errori migliora anche la sua efficienza non è mai negativo anzi è il futuro e come ha detto Francesco Leonigo il futuro non è più quello di una volta no non lo dicevo io in realtà io lo sono citato bene anche questo è un tema interessante diciamo una cosa quello che trovo interessante è che da tutti i punti di vista della sostenibilità dato che più cresce il valore di brand più questo valore di brand intangibile le soft skills tutto ciò che non è chiaramente misurabile sta prendendo piede tanto più i vostri temi specialmente le competenze perché noi in questo evento stiamo trasformando le vostre competenze pratiche di giornaliere su lean prodotto cose che succedono in qualcosa di più ampio che spieghi la visione e qui faccio la domanda Nicola Bacchetta è sempre la domanda a milioni di dollari dove sarà l'innovazione di questa idea di sostenibilità nel mondo della produzione tra cinque anni cioè dove vedi tra cinque anni dove stiamo andando mamma mia potrebbe potrebbe cadere la linea improvvisamente ma io la vedo la vedo come come un sempre una sempre maggiore interazione mix di competenze cioè io immagino che tu non intenda chiedermi quale sarà il trend tecnologico se sarà l'esoscheletro se sarà il cobot ma quello che voglio dire è che secondo me quello che stiamo facendo e anzi quello che abbiamo cercato di fare oggi un po' il dubbio che avevamo all'inizio era sì ma noi ok possiamo parlare di questi temi ma qual è il cos'è che ci lega secondo me ci lega proprio questo questo aspetto questa visione cioè il fatto che io non posso più andare nelle aziende e limitarmi a parlare di ti propongo un avvitatore un pezzetto di plastica o di ferro o di acciaio di quello che è ma posso raccontarti insieme magari ad altre persone come stiamo facendo oggi come le mie competenze le loro competenze che poi il mio sia un prodotto il loro servizio secondo me non cambia più di tanto possono dare una mano e quindi da qua a 5 anni secondo me e 5 anni secondo me anche un po' troppo perché il futuro tanto tanto in là da qua a un anno da qua a un anno e mezzo sarebbe interessante e secondo me sempre a maggior valore aggiunto mettere a disposizione delle competenze e quindi io non posso vendere solo un avvitatore ma devo spiegare che vantaggi si possono ottenere che competenze mettere a fattore comune e via dicendo e poi lo stesso che possono fare i due Francesco o comunque le loro società ok allora io vedo che c'è tantissima gente che è rimasta veramente tanti quindi vi invito a fare domande se no le faccio tutte io quindi mi diverto solo io allora io ne ho un'altra per Francesco Nonigro e anche questa è la domanda da un milione di dollari in questo senso diciamo la mia visione è sempre sugli imprenditori piccole e medie imprese che devono fare azioni pratiche con il loro team di persone quindi la maggior parte delle persone che sono in questo momento all'interno tutti quanti che non posso citare però presumo che vogliono fare cose cioè vogliono capire cosa funziona cosa non funziona quindi vi farò delle domande su cosa va e cosa non va allora la mia la prima domanda la domanda che faccio da te è questa qual è la misura più importante per la sostenibilità in un'azienda secondo te o su dove tu ti trovi diciamo che noti che questa cosa è molto importante tra tutte quelle in cui lavori la misura inteso l'indicatore che mi fa capire se sto andando nella direzione della sostenibilità quanto questa è una domanda veramente bastarda beh è difficile è difficile è difficile sintetizzare in un unico indicatore ok sicuramente non è l'EBITDA ok o perlomeno non è l'EBITDA nel senso che l'EBITDA è l'effetto è l'effetto finale di quello che di quello che sta succedendo quindi aziende che hanno cioè paradossalmente per aziende che iniziano dei percorsi di sostenibilità potrebbe essere anche che all'inizio l'EBITDA venga peggiorato perché tu hai la fase degli investimenti ok mi verrebbe da dire mi verrebbe da dire sicuramente boh oddio allora ha senso dividere almeno in tre ambiti la parte profit la parte people e la parte planet ok quindi sulla parte planet sicuramente degli indicatori di misurazione dell'impatto ambientale questi sono indicatori oggettivi proprio misurazione di dati proprio da dati oggettivi quindi è un indicatore che è difficilmente confuttabile ok sul lato profit diciamo un'EBITDA medio un EBITDA medio mai sicuramente puntuale ok sul lato people parlerei di reputation aziendale quindi potrebbe essere un tasso di tasso di trattenimento dei talenti piuttosto che richieste di di assunzione cioè potrebbero essere questi indicatori che ti fanno capire che ti fanno capire questi perlomeno sono quelli che andiamo a proporre anche per misurare l'efficacia delle azioni sulle persone grazie bellissima risposta tra l'altro mi viene da dire comprate gli abitatori FIAM perché così avrete starà più poi usate link tutti sono più felici gli indicatori vanno in alto guarda tra l'altro scusami se mi consenti vi racconto questa esperienza veramente 10 secondi che un confronto di ieri con un imprenditore un'impresa non grandissima che lo scorso anno ha di fatto pagato per conto dei suoi dipendenti tutti i punti i punti verdi ne ha organizzati quindi ha ingaggiato delle cooperative ha organizzato una struttura affittato una struttura e ha fatto sì che tutti i propri dipendenti potessero portare i figli in questi punti verdi il numero di setup di operazioni non concluse la sera per finire il giorno dopo si è drasticamente ridotto cioè sono riusciti a misurare questo indicatore perché le persone mamme ma anche i papà ok si trattenevano in ufficio più serenamente sapendo che i figli erano a 100 metri stavano giocando tra di loro erano sereni tranquilli e hanno veramente notato un numero di operazioni concluse che il giorno dopo non sono state riprese ok quindi vedi che gli indicatori cominciano ad essere veramente tanti ok se ci mettiamo un po' a creare correlazioni tra gli eventi diciamo che in un evento così la cosa bella questa fase qua io vedo che la gente rimane quindi vuole che vi faccio sempre delle domande più difficili terribili e farò un'altra domanda terribile a Francesco Dall'Occa allora secondo me è una cosa interessante poi puoi rispondere chiaramente come tu preferisci questo tema qual è secondo te sempre con la tua esperienza l'elemento più importante per la sostenibilità cognitiva delle persone quando lavorano in una linea cioè tra le cose in cui ti sei trovato qual è quella più evidente che hai visto che va risolta velocemente in questo periodo magari anche in questo periodo un po' particolare diciamo che quando parliamo di aspetti cognitivi abbiamo appunto citato e menzionato il fatto di sapere qual è l'operazione che devo andare a svolgere sapere come evitare di fare errori sapere che che fase devo controllare per passare qualità alla persona che sta di fatto dopo dopo di me volendo dare una risposta come dire molto tecnica direi che insistere e lavorare tantissimo sulla creazione di standard interni cioè mettere nero su bianco come un processo si deve si deve svolgere standard a tutti i livelli noi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo investito veramente una quota cospicua del nostro tempo dedicando tempo a valore delle nostre risorse migliori nella creazione di standard interni è praticamente diventata una funzione interna creare standard interni si dice che le aziende veramente lean debbano investire il 3% delle proprie risorse nel fare miglioramento continuo vuol dire che se hai 33 dipendenti uno deve fare miglioramento cioè non deve fare niente che riguardi la vendita la produzione la commerciale assistenza deve guardare all'interno allora la prima cosa che si può fare è fargli fare standard interni noi siamo in 18 e quindi siamo quasi a metà quindi è come dire che mezza delle nostre risorse dovrebbe fare questo e ci siamo ci siamo vicini ecco ed è una cosa che detta così sembra semplice ma è un po' forte perché vuol dire metterci il carico perché una persona bene l'ambito il continuous improvement è un aspetto un altro aspetto che ha a che fare anche con la sostribilità e poi è una mappa di argomenti grazie per la risposta a meno che vuoi aggiungere ancora qualcosa bene io farei siamo a un'ora e tre quasi a tre farei l'ultima domanda a Nicola Bacchetta e anche questa è una domanda un po' particolare che è questa sempre dal punto di vista dell'esperienza quotidiana che voi avete qual è in quale campo dell'ergonomia c'è più da migliorare secondo te nelle aziende in cui vai cioè dov'è che vedi che c'è qualcosa in cui lì va migliorato qualcosa in linea produttiva purtroppo in tutto mi dispiace darti una risposta generica nel senso che mediamente viene l'ergonomia è considerata un costo cioè se io faccio l'esempio più banale vabbè magari se c'è qualche RS PP collegato mi smentirà immediatamente ma nessuno mediamente faccio una generalizzazione ma se la norma quindi parliamo di una norma di legge prevede che gli avvitatori diritti sopra una certa coppia mi sembra sia 3 newton e mezzo vanno per forza equipaggiate con un dispositivo che diciamo così non faccia scaricare la coppia sul polso dell'operatore ora non è un concetto particolarmente difficile ma non lo sa nessuno e la risposta quando dici guarda che dovresti è sì ma costa sì certo non c'è dubbio che abbia un costo è un'attrezzatura evidentemente un costo ma innanzitutto è una norma di legge e secondo c'è evidentemente il tema della tutela della salute delle persone ma anche quando proponiamo dei sistemi diciamo così di monitoraggio di processo sono sistemi che influenzano in maniera pesante la qualità del processo e del prodotto quindi se lo continuiamo a vedere come un costo è una visione assolutamente limitata miope quindi in questo senso dico che è molto generico perché sia che io parli dell'economia fisica e quindi disposizione di legge ma anche mi sposto su quella cognitiva organizzativa molto spesso purtroppo sono visti semplicemente come delle necessità o dei costi senza vedere poi che è lo stesso tema che si citava prima se io intercetto adesso un come si dice un difetto non me lo trovo tra tre fasi perché nel frattempo poi devo tornare indietro e riprenderlo e quindi devo aggiungere costi su costi ok l'ultima cosa io chiedo a tutti i partecipanti se quando finirmo questo webinar semmai finirà scherzo di votare alla fine con le stelline quanto vi è piaciuto perché dà un'indicazione anche sui prossimi diciamo così vi faccio una domanda avete domande uno per l'altro? ah la faccio io 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 visto che è venuto fuori un po' per caso questo evento la domanda più semplice è più banale ma chiedo ai due Francesco se sono contenti di aver partecipato di aver di aver fatto creato insomma questa cosa io lo dico già la mia risposta è sì io lo sono quindi vi anticipo adesso non potete dire di no quindi vai Francesco io confermo è stato un piacere per l'ennesima volta perché non è il primo forse è il terzo il quarto che facciamo assieme è sempre un piacere quindi confermo la soddisfazione per l'evento i contenuti e il risultato è assolutamente assolutamente entusiasta di questa di questa collaborazione di questa attività che abbiamo fatto a quattro mani perché mi dà la possibilità mi è dato la possibilità di conoscere Nicola che è veramente una persona molto competente e molto molto trasparente ecco così mi dà la possibilità di rafforzare la conoscenza che ho già con Francesco Dalloca per quelle che sono le attività che condividiamo diciamo nella nostra nella nostra attività mi ha dato la possibilità di scoprire Andrea che avevo già nei miei contatti da un sacco di anni e che non conoscevo e non immaginavo fosse uno showman così così forte per cui preparati perché ti chiameremo sicuramente per fare altre attività quindi assolutamente farò delle domande peggiori però faccio un'ultima faccio un'ultima proposta io visto che come diceva Andrea ci sono ancora delle persone collegate a chi volesse scriverlo adesso in chat o magari nel momento in cui si dovesse come diceva quando si chiude si chiede il rating dell'evento ma se ci fosse qualcuno che abbia voglia di suggerirci magari un nuovo tema da affrontare ovviamente legato alle nostre competenze che se mi chiedete di parlare di saldatura io scappo subito ma siamo ben disponibili insomma magari a ricevere idee e suggerimenti su un ulteriore tema da approfondire in un prossimo evento quindi assolutamente sempre in termine di Open Innovation qualcuno sta scrivendo vediamo siamo stati bravi fino ad un'ora e trenta come previsto quindi lasciamo tutti andare a mangiare qualcosa di fantastico consegnate in un fitto bene esatto va bene signore io chiudo qui vi ringrazio a tutti buon divertimento e alla grande ciao a tutti ciao ciao ciao